buona sera a tutti ciao ciao a tutti e benvenuti in questa la nuova live di 24 7x benvenuti allora come dice il titolo stasera parliamo di youtube e in particolare della seo di youtube tra l'altro vi ringrazio già subito perché ho ricevuto un sacco di domande su youtube e alla fine di questo video spero che ce ne siano ce ne siano molte altre con me c'è stefania buonasera a tutti adesso vi leggo ciao ragazzi vi leggo in chat buonasera andrea magri andrea escudini ciao a tutti raga e niente con me c'è stefania che e vi introdurremo a questa live e a questo fantastico mondo che è la seo di youtube assolutamente sì e di nuovo benvenuti e in particolare questa sera come appunto ha detto davide come abbiamo già visto dal titolo parleremo di youtube che è un canale probabilmente anche poco sfruttato dal punto di vista del marketing sebbene sia uno dei canali più performanti che abbiamo a nostra disposizione nel panorama del digital marketing e questo ne abbiamo discusso con davide avviene molto probabilmente perché ancora manca una una consapevolezza e magari anche un saper padronare il canale no e quindi proprio per questo abbiamo deciso insieme a davide di di scavare un po più a fondo o quali sono le tecniche che ci consentono di di utilizzarlo a me al meglio all'interno di una strategia di digital marketing e in particolare lo farà proprio davide perché è uno dei grow marketer del team 24 7 x ma è la persona all'interno del team più verticale sulla padronanza del canale youtube e prima magari di entrare nel vivo davide mi piacerebbe sapere da te come mai ti sei avvicinato a utilizzare youtube all'interno di una strategia di marketing proprio perché come ho detto poco fa magari è un canale poco testato no e quindi un po mi incuriosiva sapere perché o come mai o cosa ti ha ti avvicinato a questo canale allora diciamo che mi sono approcciato al al mondo youtube verso il periodo universitario più che altro perché era un canale che seguivo più che altro per i contenuti all'interno comunque come ognuno si approccia a questo canale come utente passivo bravissimo quindi e già lì era nato un po l'amore nel capire come questo canale potesse essere utile o come funzionava proprio la crescita all'interno di questo canale come mai c'erano così tante persone che facevano contenuti e ricevevano un milione di views l'entrata nel nel mondo veramente però tecnico di youtube è stato nel nel 2016 quando iniziai a lavorare in questa distributore digitale dopo aver finito il mio master in comunicazione musicale e lì in pratica facevo l'assistente al channel manager il channel manager era la figura dell'assistente di era quella figura che all'interno del distributore digitale seguiva tutti i canali dei vari artisti musicali e quindi lavorava sulla seo di youtube e sulle sponsorizzazioni per aumentare la visibilità di questi di questi cantanti quindi proprio in questo mondo qui io affiancando iniziando a fare corsi eccetera mi sono diciamo specializzato più in questo canale che nel mondo della musica ancora ad oggi è uno dei canali più utilizzati sì nel senso che sono nati vari altri canali come spotify eccetera ma youtube anche da gli ultimi dati si rivela come ancora uno dei canali più utilizzati per ascoltare musica cioè abbiamo spotify poi youtube che ha la sua diciamo al suo taglio con youtube music e poi ci sono tutti gli altri servizi di streaming quindi il mio approccio a youtube e il mio interesse per questa piattaforma è nato proprio in quel mondo lì nel mondo della musica poi naturalmente è stato portato avanti negli anni anche perché da utente passivo sono diventato sia utente attivo a livello tecnico ma poi iniziato a fare anche esperimenti personali utilizzando la la stessa piattaforma bene bene quindi ce ne racconterai magari anche qualcuno insomma adesso comunque li vedremo insieme e ok e allora direi di entrare magari subito nel vivo del della live quindi iniziando proprio a vedere magari anche la piattaforma insomma e quindi mostrarci concretamente come riuscire a sfruttarla e come recita il titolo come riuscire a posizionarsi tra le prime posizioni quindi lascio a te insomma il timone yes allora come vi come vi avevamo scritto in precedenza nei vari messaggi questo qui sarà una live molto tecnica nel senso che andremo molto molto nel pratico e lo faremo proprio in in anteprima c'è proprio senza essersi preparato niente nel senso che comunque proveremo a utilizzare la piattaforma come la potrebbe utilizzare una persona normale e da lì proprio capire perché alcuni video magari sono più in alto di altri bene quindi io vi condividerei lo schermo in questo momento così andiamo subito sulla piattaforma allora confermatemi che vedete sì perfetto ragazzi magari anche voi dateci un senno in chat allora ok quindi questa qua come vediamo è la nostra classica home page di di youtube quindi partiamo subito allora visto che 24 7x è un'agenzia verticale sul grottaking proviamo a cercare proprio grottaking e vediamo che cosa esce fuori ok perfetto quello che volevo allora come vediamo questa qui è la nostra sono i nostri risultati della per quanto riguarda la ricerca sul grottaking naturalmente qui abbiamo il nostro raffaele gaito che tra l'altro è stato in live con noi proprio un po di tempo fa se non avete visto la live vi consiglio di andarla recuperare la trovate sia sul nostro canale youtube che alla fine del della live vi vi condivido sia però forse stato no lo trovate sul nostro canale youtube perché in verità su twitch sarà già passata come si non ne sono certa esatto su youtube sicuramente c'è insomma quindi il linkeremo quello perfetto allora prima di tutto cosa c'è da dire allora la youtube la seo di youtube è a livello tecnico un un insieme diciamo di ottimizzazioni che se unite insieme e combinate insieme vanno a portare il nostro video a raggiungere la prima posizione per una determinata keyword il fattore però di ranking più importante all'interno della seo di youtube però è il coinvolgimento ovvero youtube è nato come social media ok e solo dopo diciamo ha preso la sua forma come motore di ricerca che ad oggi anche tra l'altro il secondo motore di ricerca ancora ancora ad oggi più utilizzato all'interno del web quindi qual è il punto che come ogni social network che si rispetti anche youtube vuole che le persone stiano e più tempo possibile all'interno della loro piattaforma quindi più il nostro video è coinvolgente più fa rimanere facciamo rimanere le persone all'interno di una piattaforma più youtube farà salire di ranking il mio video quindi questa qui è la premessa principale quindi ricordatevi che alla base di tutto c'è il contenuto ovvero se un video coinvolge le persone allora quello lì avrà già un fattore di ranking molto molto alto se invece il vostro video annoirà le persone verrà visto dalle dalle persone sbagliate eccetera oppure avrete sbagliato anche semplicemente a caricare il video con un titolo diverso da quello che è lo stesso video comunque se il coinvolgimento sarà basso di conseguenza anche il ranking del vostro video sarà basso ora qual è un altro quali sono gli altri fattori di ranking all'interno del mondo di youtube qua già li vediamo il primo naturalmente è il titolo il secondo è la descrizione e il terzo sembra strano dirlo ma è la miniatura personalizzata perché allora mi voglio soffermare un attimo sulla miniatura molti non non considerano la miniatura come un fattore di ranking ma vi assicuro che la miniatura è qualcosa che muove le persone quindi cosa vuol dire che muove le persone se la miniatura attira la mia attenzione all'interno già anticipa all'interno della miniatura già è quello che vedrò all'interno del video e già mi spiega in qualche modo quello che vedrò all'interno del video allora cosa succederà che il mio istinto a cliccare sarà maggiore quindi più clic riceve il mio video più naturalmente più diciamo facebook youtube scusatemi lo vede come un segnale di interesse da parte dell'utente quindi se l'utente molti utenti sono interessati di più a un video allora anche youtube stesso lo manderà in alto nei ranking in questo caso la copertina è molto interessante facciamo anche una piccola analisi di bias psicologico perché naturalmente come vi ho detto a che cos'è il growth hacking spiegato bene quindi qualcosa che già anticipa quello che vedrò nel video è qualcosa che mi interessa perché io sto cercando il growth hacking quindi già lì nella miniatura vedo quello che mi interessa a destra vedo raffaele gaito che io non potrei conoscere cioè potrei essere veramente un novellino del growth hacking ma qual è il fatto che naturalmente lui mi sta guardando e come sappiamo tutti questo qua è uno dei bias più forti all'interno del mondo psicologico ovvero se noi è l'uomo è attratto dagli occhi ok quindi sia nelle nostre landing page sia nelle nostre ads di facebook sia nelle nostre copertine miniature di google se vediamo una persona che ci guarda direttamente negli occhi se vediamo un volto siamo più attratti e più inclini a fermarci che siamo molto più inclini a fermarci a vedere o a leggere quello che che abbiamo davanti quindi state molto attenti alla copertina la copertina o la thumbnail è veramente fondamentale all'interno del mondo di youtube quindi quando potete caricate sempre una miniatura personalizzata tra l'altro qui è fatta molto bene nel senso che gaito mette anche il suo logo e quindi anche brandizzata secondo fattore di ranking che noi possiamo trovare già quando cerchiamo un video ed è il nostro titolo il titolo è uno dei fattori principali all'interno della seo di youtube perché contiene dovrebbe contenere le keyword che per cui ci interessa rencare all'interno di youtube quindi in questo caso molto probabilmente la keyword principale naturalmente è il growth hacking quindi in questo caso io come faccio a trovare o analizzare una keyword che potrebbe essere efficace per il mio ranking ci sono vari metodi ci sono anche vari tool mi voglio spostare in particolare sui tool uno di questi naturalmente è che utilizziamo spesso noi è tubebuddy in tubebuddy facendo l'abbonamento a questo a questo tool che in questo caso però è diciamo un freemium ma per sbloccare quello che ci interessa è a pagamento all'interno di questo di tubebuddy cosa succede che noi abbiamo una voce una sezione proprio dedicata al diciamo alla ricerca delle keyword più performanti naturalmente cercando queste keyword questo è quello che che potremmo ricavare ovvero ci dirà qual è il qual è il volume diciamo di ricerca per la parola chiave e qual è la competizione per questa parola chiave come vediamo in verità la competizione per la parola diciamo growth hacking ancora è very low nel senso che non ci sono tante persone che ne parlano e tante persone che fanno video proprio sulla parola chiave sulla parola chiave e tanto che il volume di ricerca è abbastanza buono nel senso che comunque c'è ricerca ma la competizione è veramente bassa quindi se uno volesse fare un video sul growth hacking e volesse pubblicarlo probabilmente avrebbe una competizione minore e sarà avrà più sarà più semplice diciamo rencare in alto nella nostra SERP quindi detto questo abbiamo tubebuddy che è uno strumento proprio per cercare delle keyword ed è verticale proprio su youtube altri strumenti possono essere semplicemente gli altri tool che noi utilizziamo per cercare le parole chiave perché anche gli altri tool possono essere utili perché comunque ricordiamoci sempre che il mondo youtube è collegato al mondo google quindi e molto 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 spesso youtube google ci fa trovare in SERP proprio anche dei video di youtube perché perché nel tempo google si è accorto semplicemente che molte volte un video spiega molto meglio e intrattene molto di più che un qualsiasi articolo scritto su un determinato argomento quindi che cosa succederà che utilizzerà le stesse parole chiave che abbiamo utilizzato per rencare il video all'interno della SERP del motore di ricerca quindi google in generale quindi utilizzando anche gli altri motori di ricerca gli altri tool per la ricerca di keyword potremo scovare già quanto volume di ricerca hanno le nostre keyword quanto quanta competitività hanno eccetera quindi naturalmente ci sono vari tool HRNF semrush tutti quelli che volete anche mods può essere utilizzato quindi una volta fatta la ricerca della nostra keyword è importantissima inserirla già nel titolo e fare un titolo che attiri l'attenzione cioè che sia un po' clickbait chiamiamolo non proprio aggressivo clickbait però deve attirare già subito la mia attenzione mi deve rispondere già a una domanda che io ho quindi in questo caso il nostro buon Raffaele Gaito ci scrive cos'è il growth hacking spiegato semplice ok quindi tra l'altro io ho anche questo spiegato semplice che mi dice ok molto probabilmente sono nel posto giusto perché mi voglio interessare al growth hacking voglio sapere proprio cos'è il growth hacking quindi spiegamelo nel modo più semplice possibile quindi il primo fattore i due fattori ricapitolando che abbiamo visto proprio quando si cerca un video sono la miniatura quindi la copertina del nostro video l'anteprima del video e il nostro titolo il titolo mi è arrivata questa domanda magari poi la riprenderò anche dopo ma rispondo subito quanto deve essere un lungo un titolo per rientrare nelle ottimizzazioni diciamo ottime di youtube non deve essere cioè deve essere sotto i 60 caratteri sopra i 60 caratteri cosa succede che youtube ci taglia il titolo a metà quindi non verrà fuori tutto il titolo ma solo una parte e adesso qui ecco in questo caso potrebbe essere il caso dove in pratica youtube taglia perché il nostro video ha un titolo troppo lungo comunque entriamo dentro allora qui vabbè adesso facciamo partire la pubblicità scusate piccoli bug di youtube ed eccoci qua allora ah perfetto ok ora dopo il nostro titolo quali sono i fattori di ranking per cui la nostra SEO di youtube può essere ottimizzata il primo e il secondo diciamo dopo il titolo è sicuramente la descrizione nella descrizione perché è importante la descrizione perché la descrizione va non solo a spiegare cosa troviamo dentro il titolo è dentro il video scusate ma ci serve anche come copy quindi parte parte persuasiva se vogliamo portare determinate persone a compiere determinate azioni parte dove spieghiamo dove c'è dentro cosa vedranno dentro il video ma soprattutto ci serve per duplicare le nostre keyword duplicare le nostre keyword vuol dire che youtube se ritrova le stesse keyword che abbiamo nel del titolo all'interno del della descrizione cosa farà capirà ancora meglio chi sono di quale argomento tratta il nostro video quindi dirà ok cos'è il growth hacking spiegato semplice il nostro titolo subito sotto troviamo ma cos'è il growth hacking in parole semplici come vedete è quasi ripetuto duplicato il titolo stesso qua non fai altro che rafforzare andare a dire al mondo youtube guarda youtube che io mi voglio ti sto facendo un video su questo argomento qui e naturalmente nel titolo nella descrizione poi noi possiamo mettere tutto ciò che vogliamo più parole chiave mettiamo meglio è perché naturalmente andremo a dire all'algoritmo di youtube guarda youtube che ci interessa parlare di questo argomento qui il nostro video parla di questo argomento come facciamo a creare una descrizione inoltre ottimizzata per rankare all'interno del mondo youtube il timestamp ed è questo che vedete qui il timestamp è uno dei fattori ad oggi più importanti per il ranking all'interno della SEO di youtube perché è così importante perché il titolo già ci dà un'idea dell'argomento di cui stiamo trattando ma con il timestamp andiamo a dire a youtube che di che argomenti trattiamo in modo specifico all'interno del video quindi youtube sarà saprà che c'è un'introduzione dallo 00 fino al 38 secondi dal 38 secondi a 1 minuto e 41 gaito ci sta parlando del growth hacking come metodo dall'1 minuto e 41 a 4 minuti e 17 avremo la sperimentare come metodo dal 4 minuti e 17 a 6 minuti e 8 il processo di growth hacking e poi dal 6 minuti e 8 fino alla fine del video cosa significa sperimentare quindi molto probabilmente youtube già ha messo questo video in prima posizione perché all'interno del video non solo abbiamo un fattore di coinvolgimento molto probabilmente molto alto ma tra l'altro ci sta dicendo gaito quello che noi andremo a trovare nel suo video e a questo youtube fa impazzire sta cosa perché dice ok non mi stai truffando in qualche modo non mi stai facendo dello scam mi stai dicendo quello che io posso trovare e tra l'altro stai facilitando le persone a trovare quello che gli interessa quindi se io cosa succede se io sono interessato principalmente a un argomento principale posso a un argomento specifico scusate posso andare direttamente in a quel punto lì solo cliccando questo link e tra l'altro mi verrà proprio qua sotto il nostro il nostro indice ok quello che quella parte di video che stiamo vedendo tra l'altro altra cosa interessantissima da questo punto di vista e questo segnatevelo perché i time stamp sono così importanti ad oggi perché se io dovessi cercare adesso in questo probabilmente adesso non succedeva ma ve lo metto come esempio se dovessi cercare su youtube se scusate su google proprio sul motore di ricerca di google il grotacking come metodo google mi farebbe vedere mi farebbe comparire questo video ma me lo farebbe partire direttamente dai 38 secondi perché sa che io sono interessato proprio a quella parte lì quindi andrebbe lui direttamente a quella parte di video che ci interessa quindi qualora facciate un video anche corto diciamo anche dai 5 minuti sì vi consiglio dai 5 minuti in su se parlate di vari argomenti all'interno del video mettete il time stamp sempre è proprio un fattore che a google piace e vi può aiutare subito sotto che cosa troviamo gli hashtag anche qui gli hashtag sono molto importanti per quanto riguarda youtube perché vanno anche in questo caso di nuovo a ridefinire le parole chiave del video ea di definire quello di cui parliamo all'interno del video quindi è qualcosa che va a rafforzare sempre di più le nostre keyword e a dire ok youtube noi ci vogliamo posizionare per questa foto per questa eh keyword qua successivamente possiamo mettere tutti i nostri link allora eh questo è un fattore interessante anche qui eh youtube a rifferenza di altri ehm di altri social non va a mh diciamo eh dare un punto negativo se noi mettiamo dei link all'interno della nostra eh descrizione anzi per lui eh questi eh questi eh questi link diciamo servono sempre di più a rafforzare quello di cui parlo all'interno del video eh prendiamoli come ad esempio dei follow del mondo eh SEO proprio google questi link che noi mettiamo è come se noi stiamo a dire eh stiamo dicendo a youtube guarda che sto mandando queste persone a queste eh risorse perché vanno ad approfondire di più questo tema quindi più approfondisco questo tema meglio è più persone magari questi ehm queste persone vanno su altri siti vanno all'interno del mondo google eccetera quindi comunque le persone rimangono sempre nell'ambiente stesso eh che eh che è il mondo google quindi e quindi Davide perdonami ti faccio una domanda è un po' come se avessero la forza dei backlink no che in qualche modo ti trasferiscono bravissima riescono a trasferirti autorevolezza bravissima bene da questo punto di vista sì ok bene e già che insomma ti ho interrotto ti segnalo anche c'è una domanda di Andrea no che chiede il timestamp lo metti direttamente in descrizione oppure c'è uno slot dedicato all'interno del quale va inserito? lo puoi mettere direttamente lo scrivi direttamente dentro la il il la descrizione nel box della descrizione chiaro bene e mh ok quindi diciamo per fare un attimo un recap rispetto a quello che abbiamo visto finora no? ehm i fattori che consentono di ehm di far salire di posizione il nostro video se vogliamo si possono dividere in quattro quattro macroelementi eh e sono quindi prima di tutto l'engagement il coinvolgimento assolutamente il coinvolgimento esatto mh poi abbiamo il titolo e quindi dobbiamo appunto eh realizzarlo sulla base di una ricerca di keyword eh che rispecchiano poi il contenuto affrontato all'interno del video la descrizione ok la descrizione con tutti gli elementi specifici che ci stai raccontando un po' prima quando parlavi mi veniva in mente esattamente la SEO che usiamo all'interno magari di un blog post no? quindi riuscire in qualche modo a a ripetere eh eh delle keyword dei concetti magari anche con una sintassi leggermente diversa però purché eh Google in questo caso YouTube percepisca effettivamente di cosa stiamo parlando ehm e poi un altro elemento che eh non avrei detto neanch'io è appunto la miniatura eh e anche in questo caso deve riuscire ad essere esplicativa del contenuto ehm ehm e e mi è piaciuto il fatto che ti sei soffermato anche su quello che hai chiamato bias no? E quindi il fatto magari di mettere eh un'immagine come in questo caso di Raffaele che guarda direttamente l'utente come questo è in grado di di aiutare naturalmente un po' di di attirare il click in qualche modo quindi mh consigli molto spunti molto utili. Sì 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 e se tra l'altro è una cosa molto eh diciamo che è un late motive all'interno dei video di YouTube se quando li cercate vi accorgerete anche voi che la maggior parte dei dei video in ranking nelle prime posizioni hanno tutti un volto all'interno della copertina. Sì sì. È proprio qualcosa che gli stessi YouTuber, i gamer hanno anche loro capito come come strategia. Quello lì è un fattore che eh diciamo blocca la persona quando è in scroll. Bene, bene, bene. Quindi ora noi abbiamo come ho detto il nostro titolo, la nostra descrizione con tutti tutte le keyword però c'è un altro fattore che si aggiunge a questo ovvero noi dobbiamo mettere altri keyword ok? Dobbiamo dire ok YouTube a noi non ci non ci basta eh diciamo il titolo e la descrizione. Quindi YouTube che cosa fa? Mette a disposizione i tag che sono questi qua, i tag del video. I tag eh del video come la descrizione, come il titolo servono a spiegare a YouTube che cosa noi andremo a trovare all'interno del video stesso. Quindi in questo caso eh Raffaele Gaito ha messo tutti eh il i tag che eh potrebbero essere esplicativi del nostro video. Che cosa sono questi eh numerini qua che vediamo? Questi qua sono dei numeri che ci dicono in che posizione eh si inserisce questo video quando noi cerchiamo determinate queste determinate parole keyword. In poche parole se io dovessi cercare growth marketing eh questo video comparirebbe sempre in prima posizione. Ok. Questo una persona normale all'interno di un YouTube può vederlo? No. Questo qui è un altro tool che alla fine del video faremo proprio un recap. Questo qui è VidIQ. Eh VidIQ che si scrive così lo vediamo qui sotto proprio dal coso VidIQ. È un altro tool molto importante che eh questo già in fase di ehm chiamiamolo eh modello free quindi il senza andare a pagare il l'intero l'intero importo. Comunque fare la subscription al tool ci dà già molte molti eh spunti di ottimizzazione per i nostri video. In particolare ci va proprio a prendere questi dati che sono molto eh molto molto importanti. Come vedete eh già qui a livello di SEO VidIQ ci aiuta a trovare a capire quali sono eh i fattori tecnici che potrebbero aiutare il nostro video a salire di ranking. In questo caso abbiamo il conteggio dei tag, il volume del tag, eh le parole chiavi nel titolo, le parole chiave nella descrizione e le parole chiave triplicate. Poi sotto abbiamo i tag classificati e i tag classificati con grande eh volume. Ora eh naturalmente questi sono dei fattori che ci aiutano come eh come vedete a dare un voto eh al alla SEO. Quindi in questo caso il conteggio dei tag è quanti tag eh ho messo all'interno del nostro, del mio video. Ricordate che noi abbiamo trecentosessantacinque caratteri per mettere più tag possibili. Quindi eh qualora già questo video è in ranking, è già primo, però qualora Raffaele dicesse ma va io voglio eh ottimizzarlo ancora di più, voglio raggiungere proprio il top, allora come dice qua tu eh too short, dovrebbe aggiungere molti più eh tag al video per andare ancora di più all'interno della ehm nello specifico del nostro video. Quindi eh potrebbe mettere metodi di crescita, sperimentazione, già sperimentazione c'è, però comunque potrebbe mettere molte altre keyword che sono all'interno del della descrizione. Ok? Quindi ehm potrebbe andare a riempire di più gli spazi. Più tag mettiamo, meglio è. Poi ehm quello che eh vabbè parole chiave nel titolo 5 su 5, nel senso che eh abbiamo eh il totale delle parole chiave all'interno del nostro, del nostro, del nostro titolo. Abbiamo lo stesso numero di keyword all'interno della nostra descrizione. Ma eh il diciamo quella parte più importante eh oltre diciamo a queste tre è anche quest'ultima, ovvero le parole chiave triplicate. Le parole chiave triplicate come vi dicevo ehm perché mettere le stesse keyword sia nel titolo, sia nella descrizione, sia nel tag? Perché noi andiamo a creare una forza, una catena che va a dire a eh YouTube guarda che eh queste persone che guarda che questo video parla di questo argomento qui, parla di questi argomenti qui. e quindi vai a rafforzare di più quello che è tutto ehm il comparto tecnico, il background diciamo che eh sostiene il nostro video. Quindi ricordatevi sempre che la parola chiave che per cui volete rencare, di cui avete fatto la vostra ricerca eccetera, e tra l'altro per le ricerche anche delle keyword, diciamo non specificamente per YouTube ma per la SEO anche in generale, vi rimando a una prossima live. Non con me ma con il nostro esperto eh Raffaele Girate. Una volta che trovate la keyword che vi interessa, eh su cui vi interessa fare il video eccetera, andate a metterla all'interno sia della descrizione, sia dei tag. E ricordate, aggiungete più tag possibili. I tag classificati, come vediamo qua sotto, sono i tag che hanno raggiunto le prime dieci posizioni eh del eh di una pagina di YouTube di ricerca. Quindi se finiamo nelle prime dieci posizioni ehm YouTube inserirà questo tag eh classificato che più tag classificati abbiamo più vuol dire che il nostro video interessa e quindi a livello tecnico e a livello di coinvolgimento è alto, più lo stesso YouTube ci darà dei premi in più, eh dei punti in più per la nostra, scusate, per la nostro, eh per il nostro ranking. Gli ultimi sono i tag classificati con grande volume, ovvero sono quei tag che eh hanno eh che sono molto generici e magari hanno anche eh un grosso volume eh di ricerca. Più eh mettiamo dei tag generali. Ricordatevi sempre che la scelta anche dei tag eh e del dei tag all'interno di un del video di YouTube è fatta molto a ehm di tre fasce. Quindi tag di alto volume, tag di medio volume e tag di basso volume. Quindi ehm i tag di alto volume saranno diciamo quelli che eh sono molto generali e portano molte eh molte ricerche eccetera. Sono dei temi generali. Tag di medio volume e tag di basso volume possiamo identificarli come ehm le long tail keyword. Quindi quelle keyword molto specifiche che però possono portarti una persona perché eh ti renchi proprio per quella parola chiave lì. Quindi tipo anche growtaker marketing in questo caso o growtaking mindset potrebbero essere delle long tail keyword. Ok? È un po' Davide quindi come se andassimo a intercettare una nicchia di utenti, no? Quindi proprio degli utenti che sono interessati nello specifico a quell'argomento, a quel tema e quindi riusciamo eh ad adattare le ricerche di di questi utenti. È corretto? Assolutamente. Sì. Ecco eh ci chiedono in chat. I tag si scelgono come le keyword? Quindi ehm vai rispondi tu insomma. Allora eh ottima domanda. Sì sarebbe meglio eh inserirli come ehm cioè fare una ricerca dei tag come delle keyword. Attenzione però a non mettere keyword che non c'entrano niente con il nostro video. Ok? Se eh probabilmente qui naturalmente Raffaele non l'ha fatto ed è stato molto intelligente. Eh se io avessi messo come keyword hacker o hacking ehm avrei minato tantissimo il mio video. Perché se io cerco la se io voglio cercare delle robe legate all'hacker proprio in figura che sta dietro il computer e fa eccetera 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 o l'hacking ehm avessi guardato questo video non mi sarei trovato coinvolto. Quindi eh avrei diminuito di molto anche le prestazioni stesse del video perché ok entro dentro voglio sapere eh qualcosa del mondo hacking quindi trovo invece qualcuno che mi parla di marketing. Quindi eh assolutamente sì fate eh scegliete i tag come scegliereste le keyword ma devono essere tag inerenti a quello che state spiegando all'interno del video. E ti chiedo io Davide. O meglio anche andare a copiare scusami. Certo vai. Subito andare a copiare diciamo magari anche pezzi delle vostre descrizioni. Mhm. E come proporzione no? Prima dicevi magari ci sono quelli che hanno una portata molto elevata quindi parole molto molto ricercate. Poi c'è una fascia media e una fascia più piccolina. Come proporzione c'è una buona norma magari di scegliere eh in maniera equa quelli con elevata portata elevata ricerca media o piccola o magari è consigliabile metterne in misura maggiore eh di una tipologia piuttosto che di un'altra. Allora eh in questo caso ottima domanda eh io preferisco sempre eh per esperienza personale inserire di più tag eh poco specifici. Cioè scusami è molto specifici cioè è molto specifici scusate è long tail keyword. Sì 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 appunto il discorso che dicevamo prima per riuscire a intercettare persone che sono effettivamente interessate al contenuto che gli proponiamo no? Eh quindi è come se eh riuscissimo ad essere più mirati rispetto al al target. Assolutamente sì. Ad esempio eh un tag che io avrei inserito eh se fossi stato eh Raffaele Gaito sarebbe stato proprio la long tail keyword grow tacking spiegato semplice. Proprio una long keyword veramente lunga. Per cui ehm sarei andato a prendere anche vero una piccola nicchia però di persone che eh stanno cercando proprio anche eh la facilità del. Sì del diciamo vogliono sapere in modo semplice di che quell'argomento di che cosa stiamo parlando. Quindi eh anche qui sarebbe una keyword che io avrei aggiunto eh all'interno del dei vari tag. Sì chiaro chiaro. Ora quindi abbiamo visto questi fattori eh di ranking. Qual è un altro fattore di ranking molto importante all'interno di YouTube che eh è entrato non è tanti anni che è entrato ma da poco ed è quello che eh diciamo sbilancia anche molto sono i sottotitoli. Sì ok. Eh noi come eh YouTube ci dà la possibilità di andare a creare dei sottotitoli che si possono naturalmente inserire nel nel nostro back end e dopo faremo anche un giro all'interno di di YouTube studio. Bene. Eh ci dà la possibilità di creare i nostri sottotitoli o comunque di mettere i sottotitoli. Allora perché questo è importante perché come eh ogni video cioè come eh come ogni video noi noi parliamo e eh diciamo eh all'interno del video andiamo a parlare a dire le stesse keyword che probabilmente ripetiamo sia nel titolo sia nella descrizione sia nei tag. Quindi cosa succede? Il motore di eh ricerca di YouTube va a matchare tutto il nostro comparto tecnico con eh gli stessi sottotitoli. Quindi eh l'algoritmo di YouTube non fa altro che andare a matchare e vedere se effettivamente quello di cui parliamo nel video è anche quello di cui parliamo eh nel titolo eh quello che descriviamo nel 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 nella descrizione e quelli e quelli e i tag che andiamo a inserire. Quindi ehm quando noi andiamo a fare dei sottotitoli quello che io vi consiglio caldamente è quello di non lasciare i sottotitoli generati automaticamente. Perché? Perché? Perché molte volte soprattutto se state parlando di eh un brand se state parlando di eh qualcosa che eh non è di un di una parola non standard all'interno della lingua italiana che però è importante per eh il ranking. quindi ad esempio facciamo questo esempio facciamo per eh un esempio per cui eh grotacking magari parlando di grotacking YouTube qua dentro non riconosce la parola grotacking e quindi va a storpiarla. Ok? Non caricando eh diciamo dei dei sottotitoli corretti. Lui andrebbe a generarli automaticamente e andrebbe a prendere quella parola che però è stata storpiata. magari ci scrive grotacking tutto attaccato o eh grotacking proprio come scritto come lo dico. Perché? Perché ancora ad oggi il eh l'algoritmo di YouTube è è molto potente a livello di eh generazione automatica di YouTube di di sottotitoli però eh non sempre riesce a capire bene eh quello che diciamo soprattutto noi italiani o comunque anche un pochino mondo americano che è molto eh siamo molto propensi a parlare velocemente. Ok? Anche quando registriamo dei video. Quindi in questo caso cosa vi consiglio? Prima di tutto poiché sapete che i i sottotitoli sono un fattore di ranking. Quando caricate il video ehm fateli diciamo generare automaticamente più o meno dopo due minuti vengono già generati. Quindi scaricateli attraverso vari programmi di ehm diciamo di ehm vari programmi di editing di di sottotitoli. Editateli, metteteli in italiano corretto, anche aggiungeteci, aggiungeteci pure la punteggiatura eccetera e ricaricateli su YouTube. Oppure molto più semplicemente YouTube ve li fa anche editare eh a livello nativo su eh YouTube stessa. Quindi ehm andate a modificare diciamo quelle parti di del video che e quelle parti dei sottotitoli che eh magari non sono eh propriamente corrette a livello grammaticale ma soprattutto a livello di eh spelling, lessico, eccetera. Quindi eh per ora quello che i fattori di ranking che abbiamo visto sono principalmente il coinvolgimento, secondo luogo il titolo, terzo luogo eh la nostra descrizione con i timestamp, quarto i tag, quinto i sottotitoli e sesto per importanza la nostra miniatura. Quindi eh diciamo che già qui abbiamo tutto quello che è il nostro ehm comparto eh YouTube SEO. Cosa eh si aggiunge però a tutto a tutti questi fattori? Si aggiungono eh tutte quelle parti che ci danno dei segnali di quanto eh eh coinvolgimento abbiamo nel video. Uno di questi è naturalmente il fattore social, ovvero quando carichiamo un video, cos'è che ci dice che, cos'è che fa capire a YouTube che oltre al coinvolgimento stesso, ovvero quanto eh un un utente guarda un video, cos'è che gli fa capire che eh un video può essere interessante da far vedere ad altre persone e quindi spingerle in alto? Prima di tutto le visualizzazioni, successivamente i like e i dislike e in ultimo i commenti. Ora, ricordatevi sempre il momento cruciale eh del coinvolgimento per far salire di ranking il nostro il nostro video è i primi, le prime ventiquattro, 48 ore dalla pubblicazione del video. Se in queste ventiquattro eh ventiquattro ore, 48 ore abbiamo un alto coinvolgimento, quindi tante persone guardano eh il nostro video senza interrompersi, quindi eh abbiamo una stabilità nella nella percentuale di visualizzazione del nostro video. Se abbiamo già 100, 200 persone che nelle prime 48 ore guardano il nostro video, se già abbiamo persone che eh mettono like e commentano, allora nelle prime, sempre nelle prime 24, 48 ore, allora Facebook eh scusate YouTube aumenterà il ranking del nostro video. Quindi questi qua sono fattori molto importanti, nel senso che se una persona mi commenta eh mi visualizza per molto tempo eh mette like eccetera vuol dire che è una persona molto coinvolta e probabilmente andrà a vedere anche un altro nostro video ed è quello che gli piace a YouTube. Cioè che la gente sia interessata al nostro video tanto da eh poi eh magari continuare la visione di altri video perché sono correlati a questo. Quindi ricordatevi sempre che eh una delle strategie migliori da questo punto di vista quando pubblicate un video ehm condividetelo il più possibile. Eh cercate in modo di eh farlo passare a più persone possibili eh chiedetegli magari di aprire il vostro video e lasciarlo eh diciamo in muto in modo che eh comunque eh comunque il fattore di eh coinvolgimento si alzi perché eh e fateglielo vedere tutto soprattutto con dei video molto lunghi. Ehm quindi da questo punto di vista eh aiutateli diciamo aiutatevi a a a far girare il video il più possibile. Eh altra cosa importante eh a livello di eh SEO come ci diceva. Anche qui vi da IQ quindi eh come vedete questo tool è è abbastanza fondamentale per chi vuole fare eh cioè ti aiuta tantissimo per fare eh la SEO su YouTube. In questo caso cosa abbiamo qui? Le schede finali, le schede e le schermate finali. Ora perché le schede e le schermate finali vengono considerate all'interno della YouTube eh della della SEO di YouTube? Perché come abbiamo detto prima le schede e le schede e le schermate finali ci permettono di far vedere il nostro video, di far continuare eh il nostro utente a eh rimanere incollato su YouTube. Ora io adesso qui non saprei se Gaito le usa, vediamo se c'è un esempio. No, ok. Adesso andiamo a cercare un altro video sicuro. Allora fatemi vedere. Come vedete facciamo tutto in diretta. Federica che tra l'altro è una ragazza che eh conosco, che lei dovrebbe essere. Ok, eccoci qui. Perfetto. Allora, in questo video eh cosa vediamo? Vediamo le schermate finali e eh come vedete tra l'altro è tutto verde da lei. Ok, tranne uscire da un Facebook. Ehm. Da lei cosa abbiamo? Queste schermate finali. Quindi se il video che lei ci ha dato, che ci ha, che abbiamo visto eh ci è piaciuto, sarà eh saremmo magari molto più eh propensi a vedere un altro suo video. E mettere le schermate finali ci permette proprio di dire ok guarda che se hai visto questo video, magari ti potrebbe piacere questo video. Quando andate a caricare eh un un video su YouTube, infatti ehm già a livello nativo, già all'inizio Facebook, cioè scusate eh YouTube, vi chiederà se volete eh inserire proprio un una schermata finale. Perché eh questa andrà a naturalmente migliorare la vostra posizione perché YouTube dirà ok se mi hai messo una schermata finale vuol dire che comunque eh nel peggiore dei casi, comunque cioè nel migliore dei casi una persona continuerà a vedere. Quindi aumento il tuo ranking. L'altro sono le schede. Le schede anche qui eh potete eh incollare sia link che portano all'esterno, ma meglio ancora per aumentare il vostro livello di SEO, mettere altri vostri video. Eh le schede sfortunatamente in verità sono solo eh online, cioè scusate da desktop. Quindi è più qualcosa che c'entra nel mondo desktop e non mobile, però visto che eh fanno parte del mondo YouTube e soprattutto nella per sono un fattore di ranking per eh all'interno di YouTube, mettetele sempre. Leggo tra l'altro in chat una una domanda che si collega a questo e la voglio ricollegare, che dice eh la suddivisione in playlist ha una qualche valenza a livello SEO? Sì, assolutamente sì. Eh come vedi qua ehm Federica mette eh proprio linka proprio una playlist. Perché mettere un video all'interno di una playlist ha eh una eh valenza a livello di SEO? Perché naturalmente i video all'interno della playlist partono automaticamente. Quindi non abbiamo bisogno di eh inserire magari delle schermate finali, perché se io sono all'interno della playlist i video, a meno che io non disattivo l'opzione, partiranno in modo automatico. Quindi da questo punto di vista eh inserire un video all'interno della playlist e quando carichiamo un video proprio eh Facebook eh scusate YouTube già ci dice eh se vogliamo inserirlo all'interno all'interno della playlist ehm fatelo perché è un altro fattore di ranking nel senso che stiamo dicendo a YouTube guarda che attraverso questa playlist eh il mio utente sarà più coinvolto nel senso che finita il primo video probabilmente avrà una maggiore probabilità di andare avanti con un secondo video. Quindi assolutamente sì eh inserite il vostro video all'interno di una playlist e se potete pingate, linkate questa play eh questa playlist alla fine dei vostri video. Per quanto riguarda le schede, tra l'altro YouTube vi dà varie opzioni nel senso che potete mettere il video più affine a quello che ha visto eh il nostro utente. Quindi decidere, far decidere a YouTube quale video far vedere all'utente. Potete far eh decidere se se mettere una playlist oppure decidere magari l'ultimo video o decidere proprio voi i video che volete farli vedere. E altra cosa molto importante tra l'altro nelle schede finali potete mettere anche eh la possibilità di far iscrivere direttamente eh un vostro l'utente che sta guardando il video eh al vostro canale. Quindi diciamo che tutto questo che eh eh abbiamo visto se creato e eh ottimizzato nel modo corretto porta il nostro video a eh aumentare di ranking all'interno della SEO di YouTube. quindi eh è molto importante seguire questi passaggi e eh seguire anche eh preparare nel modo più accorto un eh un video eh su YouTube. Infatti eh uno dei fattori principali per cui anche molti sono ancora resti a eh diciamo utilizzare YouTube come eh canale di di marketing è più che altro non solo non capire bene la SEO eh e i fattori di ranking del nostro video ma più che altro anche perché ci vuole tutta una preparazione prima eh affinché tutto sia perfetto ok? Perché se abbiamo solo quarantotto ventiquattro quarantotto ore affinché il nostro video eh possa rincare già e dare degli ottimi segnali a YouTube eh capite bene che prepararsi prima crearsi delle checklist ehm crearsi delle ehm diciamo eh un insieme di passaggi da completare è fondamentale e ehm per diciamo aumentare la possibilità che il nostro video possa rincare all'interno eh di YouTube. Quindi ehm anche qui possiamo vedere che eh tra l'altro a livello di ottimizzazione abbiamo beccato un altro video molto molto eh ottimizzato alla grande. Guardate quanti timestamp mettono. Quindi ehm questi tutti questi fattori di cui siamo eh andati a parlare in questa prima parte sono fondamentali. Piccolo trick che vi insegno quando caricate un video ehm che diciamo è stato molto in voga nell'ultimo periodo e eh quindi eh diciamo non è un hack però entra a far parte sempre di questo mondo YouTube SEO. Quando caricate un video eh programmatelo cioè invece di pubblicarlo in modo eh automatico quindi dire ok Facebook eh ok YouTube pubblicami questo video andate a chiedere a YouTube di programmarlo per un determinato giorno e una determinata ora. Perché questo? Perché farete già entrare eh il farete già lavorare l'algoritmo di YouTube eh per quanto riguarda questo video. Quindi lo programmate eh spammate quanto volete eh questo eh questa eh questo 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 planning in tutti i vostri social in tutti i vostri canali in tutti eh tra tutte le persone che potrebbero essere interessate a eh questo video che state lanciando e programmatelo. È eh è un fattore molto interessante che tra l'altro ehm YouTube ha inserito più o meno da un paio d'annetti anche sì un paio d'annetti quindi eh questo qui è un è un consiglio che vi do caldamente quindi non pubblicate in maniera veloce se mai programmatelo soprattutto se eh lavorate con il personal branding eh se magari eh state lanciando eh un nuovo prodotto quindi anche eh caricate il video eh lo programmate e lo lo e lo date in pasta a tutti i social che avete. Perché così il YouTube già farà andare l'algoritmo e già si prenderà ehm analizzerà tutti i fattori di ranking tecnici quindi keyword, titolo, SEO, eccetera. Ma successivamente voi avrete già creato una eh lista d'attesa chiamiamola così quindi eh eh come diciamo la tecnica dell'oversubscribing cioè più persone ho fuori dalla porta che aspettano di vedere il mio video meglio è perché perché quando il mio video andrà live ci saranno tante persone che guardano tante persone che magari coinvolgono e quindi eh già nelle prime quarantotto ore avrò tante eh tanto coinvolgimento sul mio video stesso. Molto interessante questo Davide e e quindi probabilmente si lega anche un po' al discorso che dicevi prima che tante volte è uno dei canali meno utilizzati proprio per via del fatto che richiede una preparazione anticipata rispetto e in questo caso direi anche diciamo molto anticipata e e precisa rispetto poi al lancio effettivo no? Mentre sto pensando magari ipotizziamo una campagna eh banalmente Facebook ehm in cui ok eh prepariamo una volta che abbiamo tutti gli asset necessari la lanciamo in questo caso invece avere questo lasso di tempo ehm d'anticipo ehm ci consente di avere poi un un successo successivo maggiore scusate il gioco di parole però insomma magari anche proprio questo che che lo rende un canale meno sfruttato no? Assolutamente sì eh sì tenete conto che eh alla fine YouTube c'è tutto questo comparto tecnico eh dovete entrare sempre nella logica eh del un po' sempre delle della della SEO tradizionale cioè eh ci sono quei fattori che comunque ti sbilanciano molto eh il fattore di ranking solo che se diciamo a livello di Google noi possiamo ottimizzare la nostra SEO anche nel corso del tempo ottimizzare un video eh nel corso del tempo è abbastanza complicato a meno che eh non si alzi il fattore di coinvolgimento e le visualizzazioni ok? Mettiamo il caso che noi partiamo con un video che eh per nelle nelle prime ore ha fatto pochissimo quindi in verità ci rinchiamo veramente bassi però dopo due anni facciamo finta eh succede qualcosa per cui tutte le le persone vanno su quel video lì e aumentano le visualizzazioni a quel punto eh si rimette in moto tutta la macchina YouTube che va a dire ok se però tante persone in questo periodo stanno facendo vedere questo video vuol dire che è ehm ha qualche valenza ha qualche importanza e comunque coinvolge molto le persone quindi saranno gli stessi sarà lo stesso algoritmo di YouTube ad alzare a livello di ranking il nostro eh il nostro video. Quindi diciamo nel lungo periodo l'unico fattore che potrebbe incidere è appunto il coinvolgimento mentre non so magari se in un momento successivo rispetto alla pubblicazione del video andassimo a modificare non so descrizione, titolo o qualcuno degli altri elementi che hai citato prima, in realtà questo inciderebbe pochissimo, è corretto? Ok. Assolutamente sì. Ok. Nell'ultima eh mezzoretta che abbiamo a disposizione perché così non vi stanco e non vi dilungo molto cioè già qui abbiamo fatto eh una bella introduzione. Sì. Ehm spero che vi sia stato molto utile anche a voi in chat se se volete dare qualche eh spammare qualche anche emoticon quello che volete per farci capire se siete interessati eccetera. Vorrei portarvi nel back end del mondo di YouTube che è YouTube Studio. Sì. Ora. E e intanto allora Davide eh partiamo insomma subito con un'altra domanda ehm in cui ci chiedono all'inizio consigli di utilizzare altri canali o YouTube potrebbe essere un buon canale perché non molto gettonato? Molto interessante. Allora ehm dipende molto da quello che ehm da quali sono anche i contenuti che vogliamo utilizzare. Nel senso che se i nostri contenuti devono essere prevalentemente video e eh vogliamo abbiamo diciamo vogliamo rencare all'interno di YouTube perché attraverso le nostre ricerche l'abbiamo visto con determinate keyword YouTube eh è uno dei canali secondo me migliori. Ok? Eh ancora ad oggi diciamo che eh rencare poi bisogna capire anche se a livello se parliamo soprattutto di livello organico eh ancora ad oggi io lo preferisco rispetto ad altri canali cioè preferisco far crescere di più YouTube e utilizzare gli altri canali come appoggio di questi miei video. Eh però dipende molto sempre dal dalla strategia che noi abbiamo a livello di content quindi se abbiamo tanti video ma dipende anche molto dal business che noi lanciamo. Se è un personal branding lanciatevi subito su YouTube fate video ehm cercate di far crescere la vostra figura all'interno del dei video di YouTube perché ehm lato anche personal branding far vedere la propria faccia far sentire la propria voce è eh forse a fianco allo stesso LinkedIn per il personal branding è il canale che è da privilegiare di più. Sì. Quindi eh ottima domanda eh io ti direi di partire proprio da da YouTube se sei un se hai un personal branding se no parti vedi un attimo i contenuti che hai perché naturalmente tutta la strategia dipende anche molto dai contenuti e dal business che ho. Certo sì. Ora benvenuti nella dashboard di eh del nostro YouTube. Dietro le quinte insomma. Dietro le quinte. Allora qui naturalmente abbiamo tutta la gestione eh con le nuove notizie, l'analisi del canale, i rendimenti dei degli ultimi video, i video pubblicati, ultimi commenti eccetera eccetera eccetera. Quello che ci interessa di più so è diciamo questa parte qui. Gli analytics. Come ogni cosa nel marketing eh come ci insegna benissimo anche il growth hacking e eh ma il marketing digitale in generale dovrebbe essere così. I dati fanno da padroni per capire effettivamente cosa sta funzionando e cosa non sta funzionando. Quindi qua come abbiamo detto qual è la metrica fondamentale del nostro eh del del della nostra SEO? Il coinvolgimento. Quindi qui non solo abbiamo una panoramica generale ma abbiamo anche la copertura. Quindi quante eh quante impressioni al nostro video eh vari dati quindi i tipi di canali di sorgente quindi da dove vengono di più le nostre visualizzazioni eh da quali sorgenti in questo caso abbiamo Google Search poi Facebook poi Whatsapp YouTube eccetera. Ma quello che ci interessa di più è il coinvolgimento. in questo caso. Ora in questa schermata noi troviamo vabbè qua in altro ricordatevi sempre che avete il eh il range di date ma qua dentro troviamo il il diciamo la metrica che ci interessa di più e su cui possiamo imparare di più perché se non facciamo dei video performanti, dei video interessanti che coinvolgano l'utente non saremo mai ai primi eh ai primi posti. Quindi. Quanti quante ore totali sono state eh sono state visualizzati i video di 24x in 90 giorni? 677. Qual è la durata media della visualizzazione? 12 minuti. I video che noi carichiamo su questo canale eh che è quello che eh poi vi invito a eh spulciare per andarvi a riprendervi tutte le live passate eh sono video molto lunghi sono carichiamo quelli che sono le live intere fatte su Twitch. Quindi ehm sono i video dove dove dobbiamo stare un pochino più attenti perché comunque non riusciamo a coinvolgere meglio le persone comunque eh una live di solito non 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 è programmata, non abbiamo una scaletta, non abbiamo un copione da seguire eccetera. Quindi è ehm è difficile andare a migliorare. Ok? Però adesso io vi voglio far vedere come analizzare un video. Allora passiamo subito a questa lineetta qui, a questo grafico qui. Questo grafico ci dice quanto le nostre persone sono coinvolte all'interno del nostro video. Come vedete eh più questa linea è perpendicolare, cioè scusate è stabile, più eh le persone che guardano questo video sono coinvolte. Cosa vuol dire? Che eh se io ho una linea che mi cadrà subito giù, quindi cade in picchiata come per noi qui all'inizio, questo, questa picchiata qui. Questa picchiata qui eh non viene vista benissimo da YouTube. Perché? Perché eh in pratica dirà ok già subito il video parte male, cioè la gente non è interessata. I primi secondi invece sono quelli che dovrebbero coinvolgere di più, fermare l'attenzione dell'utente, perché io clicco e non è che vado subito a eh scorrere il video, voglio vedere già il video dall'inizio. Quindi già subito qua molte persone eh si perdono. E eh e quindi sarebbe utile in questo caso qual è questo pezzo di video che eh abbiamo visto che porta via tante persone proprio il momento d'attesa. Quindi a livello di ottimizzazione dei video tagliare già questo pezzo e caricare la live da quando inizia quindi dai saluti iniziali ehm in poi è il diciamo un fattore principale. Cioè sarebbe eh l'è un ottimo eh un ottimo punto di ottimizzazione. In seguito cosa abbiamo? Abbiamo comunque una linea abbastanza stabile. Ricordatevi che la linea più è in alta. Meglio è se è sopra sempre i venticinque e il cinquanta per cento. Allora se siete sopra il cinquanta per cento avete vinto. Cioè vuol dire che il vostro video sta coinvolgendo, è figo, interessante eccetera. Se il vostro video è al di sotto del venticinque per cento eh probabilmente dobbiamo migliorare qualcosa. Vi sto parlando però di video non così lunghi. Vi sto parlando di video che vanno dai cinque minuti fino ai venticinque minuti. Quindi cinque venticinque minuti se siete sopra il venticinque per cento o anche sopra anzi facciamo proprio sopra il venticinque per cento stabile è già ottimo. Se siete al di sotto del venticinque vuol dire che il vostro video non interessa al pubblico. Quindi avete sbagliato qualcosa. In questo caso come vi ho detto invece sopra i venticinque minuti se riusciamo a stare sopra leggermente il venticinque per cento già è buono perché comunque è un video lungo. Non possiamo pretendere a meno che proprio non facciamo una live che interessi veramente. Non possiamo pretendere che le persone eh siano veramente eh interessate per tutto il video. Però già qui i primi minuti fino a raggiungere diciamo i i diciannove minuti le persone sono molto più molto coinvolte. Quindi eh andare a analizzare anche dove ci sono questi picchi qui di coinvolgimento eh ci fa capire un attimo anche qual è magari il punto dove eh le persone si sono soffermate di più e dove si sono state più coinvolte. Fate sempre un doppio check che questi questi picchi magari non coincidano eh o coincidano con i vostri timestamp. Nel senso che se questo questo picco qui mi coincide con un determinato timestamp so che la maggior parte delle persone sono interessate a quell'argomento. Quindi potrei fare una live dedicata interamente a quell'argomento lì e probabilmente le persone sarebbero molto più interessate. Invece in un video normale dove abbiamo questi picchi probabilmente anche qui andremo a analizzare che cosa è successo in quel video lì. Piccolo trick. Questo esce al di fuori del mondo YouTube nel senso tecnico. Cosa eh rende un video un pochino più fruibile? Il video più fruibile è un video che nel novanta per cento dei casi ha molti tagli, ha molto movimento. Quindi se riusciamo utilizziamo due cam quando registriamo. Una che ci prende frontalmente, una che ci prende lateralmente. E in fase di montaggio andiamo a spostare le nostre, le inquadrature. Cerchiamo di prepararci un copione perché questi video non sono una live come la stiamo facendo adesso, ma se vogliamo fare dei video professionali dobbiamo avere un copione e magari non incespicarci quando parliamo, non bloccarci eccetera. Se non abbiamo una doppia cam ricordatevi che in fase di editing si può sempre creare questi piccoli salti, questo movimento che comunque tiene attenti le persone. Se noi mettiamo un'immagine statica, dopo un po' è il nostro cervello a stancarsi che vede sempre la stessa immagine. Se invece mettiamo dei tagli, dei tagli veloci, dei cambi di inquadratura o solo semplicemente allargare e diminuire l'inquadratura che è un, diciamo un editing molto semplice in qualsiasi programma voi utilizzate, già quello dà movimento al video e già aumenta più la fruibilità. Quindi oltre a stare attenti a come siete, a come coinvolgete le persone sia col tono di voce sia con il vostro carisma eccetera, molto importante è dare movimento. Questo anche a fattore per tutto quello che riguarda dei business di prodotto. Fate vedere i diversi usi del prodotto, fateli vedere da diverse angolature, fate vedere i vari modi in cui questo prodotto è utilizzato. Più c'è movimento, più il nostro video racconta, fa vedere come mi può aiutare nella mia vita normale, più avrò coinvolgimento. Quindi questo qui è proprio un qualcosa che vi consiglio caldamente di seguire. Quindi non fate video troppo statici, siate sempre in movimento. Quindi oltre a questo naturalmente ha il coinvolgimento che questa cosa sarà la parte che ci interesserà di più per imparare cosa funziona e cosa no e capire soprattutto se il nostro video sta coinvolgendo molte persone eccetera. Qui possiamo ricavare tutti i dati possibili, immaginabili che ci possono interessare come chi visualizza di più i nostri iscritti o i non iscritti, da che paese, quali sono i sottotitoli più utilizzati eccetera. In questo caso non abbiamo un numero sufficiente di visualizzazioni ed iscritti per avere dei dati, quindi per ora. Anzi, se non siete ancora iscritti andatevi a iscrivervi al canale YouTube per avere dei dati. Comunque qui vedrete che già andando anche nella modalità avanzata avremo molti, molti, molti dati da analizzare, tipo da quale parte vengono più visualizzazioni dalla pagina per quanto riguarda questo video, dalla pagina del canale in cerca di YouTube. Anche questo ci darà molto del comportamento dei nostri utenti e ci farà anche capire se questi utenti ci trovano attraverso magari l'home page, attraverso determinate keyword eccetera. Ad esempio, se noi clicchiamo qui ricerca di YouTube, in pratica noi andremo a vedere anche in questo caso YouTube, non abbiamo tanti dati quindi non ce lo fa vedere, però ci andrà a indicare proprio le parole con cui, le keyword con cui un utente ci ha cercato. Quindi basta che clicchiate su ricerca di YouTube, se avete abbastanza dati già qui vi farà vedere quali sono le parole di ricerca che più vi possono interessare. Quindi sfruttate tantissimo questo, questo back-end perché è il Google Analytics di YouTube. Se non avete questi dati non potrete migliorare il vostro video e quindi il video che voi andrete a lanciare non sarà super... cioè il primo video che andrete a lanciare magari non farà numeri, ma se non controllate tutti questi dati probabilmente non saprete neanche come migliorarlo. Quindi l'ultima cosa che vi voglio far vedere era proprio TubeBuddy, un attimo che vado sul mio personale perché, vabbè, in questo caso non è per fare pubblicità, ma è perché è dove c'ho YouTubeBuddy alla sua ennesima potenza. Quindi Davide, ricordaci, questo era il tool per la ricerca delle keyword, è giusto? Sì, assolutamente sì. Più altre checklist è molto utile, anche qui c'è lo studio dove ti danno tutti i consigli per migliorare al 100% i vostri video. Qui naturalmente si può cercare la keyword che ci interessa e già ci dici, ok, tutti i dati che abbiamo anche visto prima, quindi quali sono i tag più utilizzati, qual è il volume di ricerca, qual è la competizione... Davide, perdonami, temo che non vediamo più... o meglio, vediamo il tuo schermo però è immobile, quindi non... Ah, ok, perché, ok, sì, perché StreamYard, vediamo facendo così, arrivo. Ok, sì. Ok, scusate, eccomi qui, vediamo se... facendo il schermo intero... ok. Perfetto, ottimo. Allora, dovreste vedere tutto. Sì, sì. Ok, eccoci qui. Qui come vedete ci sono tutti, quello che dicevo, tutti i dati per quanto riguarda la ricerca delle keyword, quindi anche i risultati che vedete, dove inserisce la parola chiave e, vabbè, qui dovrebbe darti anche varie risorse a livello di YouTube, eccetera, e Google, però non ci sono... si vede abbastanza volume di ricerca. Quindi, quali sono i tool che vi consiglio di utilizzare? Sono VidIQ, che anche a livello gratis è molto, molto utile, e l'altro è TubeBuddy, che è a pagamento per averlo sbloccato in tutte le sue funzioni, ma fidatevi che se volete lavorare tantissimo a livello di YouTube, se volete utilizzare questo canale proprio come principale canale di marketing, è molto, molto importante. Bene. Quindi, ritorniamo qui, rimuoviamo. Eccoci qui. Allora, tra l'altro, ringrazio tutti quelli che sono arrivati fino adesso, so che è una faticaccia perché la SEO di YouTube è molto, molto tecnica. Però, insomma, l'hai resa comunque molto interessante, Davide, e soprattutto chiaro, molto chiaro, insomma, nei vari concetti che ci hai spiegato. Grazie. Ottimo. Infatti, insomma, ti arrivano anche altri complimenti, non solo da parte mia. Vorrei adesso, allora, questo pomeriggio ho lanciato anche un po' di messaggi sia su Instagram ma anche su Telegram per avere un po' di domande. E vorrei rispondere perché, secondo me, sono anche domande intelligenti. Quindi partiamo, vi verranno davanti sullo schermo. Allora, come faccio a vedere i miei video, come faccio a far vedere i miei video a tante persone? Allora, semplicemente, a livello, come abbiamo detto prima, in verità dipende. Il mio video lo riesco a far vedere a tante persone se, diciamo, tutto il comparto tecnico anche a livello di SEO di YouTube è corretto e quindi anche a livello di, diciamo, tutti i fattori di ranking sono settati in modo giusto ed equilibrato. Sì. Inoltre, come vi ho detto prima, come faccio a far vedere i miei video a tante persone? Cercate di condividerlo il più possibile alle persone che avete all'interno dei social o dei vostri canali, quindi domanda a cui risponderei proprio dipende. Cioè, dipende se hai tanti anche canali da utilizzare per far girare questo video. Certo. Questo, Davide, appunto, come dicevi anche prima, è fondamentale un po' il tempismo, no? È quasi riuscire a trovarsi in anticipo poi rispetto al lancio del... alla pubblicazione del video. O comunque parlavi di 24-48 ore. Sì, assolutamente sì. Le prime 24-48 ore sono le più fondamentali. Ok. Cioè, sono le, scusate, le fondamentali. Le fondamentali, sì. Poi, altra domanda, erano trends e futuro di YouTube marketing. Molto interessante. Allora, diciamo che nel corso della pandemia YouTube ha raggiunto, ha avuto molte più visualizzazioni rispetto anche agli anni passati e questo ce lo potevamo immaginare nel senso che la pandemia ha dato un boost perché tutti erano a casa e quindi tutti cercavano video. In particolar modo i video più cercati sono stati video di fitness e video di cucina, quindi ce lo potevamo aspettare. Dove andrà, diciamo, la... Quali saranno i trend principali? Allora, vi condivido anche qui lo schermo. Sì. Perché avevo preparato un po' di dati. Ok. Ci siamo. Allora, prima di tutto, YouTube in Italia. YouTube è un canale che continua, diciamo, è in continua crescita, soprattutto per la fascia di età compresa tra, diciamo, i 25 e i 54 anni. Questo soprattutto per il mondo italiano, di cui la maggior parte, diciamo, di questi, ha, diciamo, queste persone hanno, questi utenti hanno una media di 35 minuti di permanenza sulla piattaforma ogni giorno. Quindi è una piattaforma che sta crescendo e che si sta sviluppando. E, diciamo, la pandemia non ha fermato, anzi sta aiutando molto a far crescere questo canale. Il trend che è stato notato e che comunque pare non calare è l'utilizzo delle televisioni per vedere proprio la piattaforma di YouTube. Quindi l'utilizzo anche degli smart, delle TV smart, ha aiutato molto YouTube a crescere, nel senso che gli utenti hanno iniziato ad utilizzare anche le smart TV per utilizzare questo canale. Quindi, perché è importante? Perché questo ci fa capire come anche YouTube venga un po' sostituito a quello che è il mondo televisivo attuale. Perché da un certo punto di vista è anche migliore, nel senso che scegliamo noi quello che vogliamo vedere. Certo, sì. Ok, e ha anche una fruizione un pochino più veloce. Infatti, questi qua sono i dati che ci vengono dati di quest'anno, quindi in verità sono molto inficiati da quella che è stata la pandemia, quindi più 40% dell'aumento di visualizzazioni e il 50%, di visualizzazioni e di video di dance pop, in questo caso, fitness, cucina, serie A. Cioè, comunque, questi dati naturalmente ci fanno capire come è stato utilizzato anche come valvola di sfogo. Ok? Siamo noi che a livello strategico dobbiamo anche essere super intelligenti ad utilizzare questo canale. Cioè, se siamo un brand di cucina o di fitness, in questo qua, diciamo, è il momento migliore per crescere. Comunque, quello che è stata la pandemia era sicuramente il momento privilegiato. Se invece comunque abbiamo un personal branding o comunque un altro prodotto, ricordiamoci che comunque è un canale che sta crescendo di più e la stessa pandemia comunque ha fatto ritornare agli utenti a riutilizzare questo canale. Quindi non è un canale che sta muovendo, morendo, ma si sta evolvendo e sta crescendo sempre di più. Inoltre, questo qui è un fattore per chiunque lavori nel marketing. Questi sono dei dati molto interessanti, nel senso che a livello di brand awareness e a livello di vendite, YouTube ci può aiutare tantissimo a migliorare la nostra posizione e ad aumentare i nostri acquisti. Quindi questi dati che leggete sono dati che vengono, sono stati raccolti direttamente da YouTube e ci fanno capire come questa piattaforma sia veramente importante ancora ad oggi a livello di vendite. Cioè, YouTube potrebbe essere utilizzata proprio come un canale d'appoggio ai nostri soliti canali. Quindi, è vero, io faccio marketing magari su Facebook, Instagram e Google Ads, però attraverso anche YouTube io posso, diciamo, affiancare la vendita con dei video che seguino a questi utenti all'interno del nostro viaggio, diciamo, customer journey. Sì. Quindi, in un'ipotetica strategia, probabilmente le persone a cui farei vedere i miei video sarebbero delle persone di retargeting, probabilmente create da pubblici di retargeting e di Google Ads. Certo. Anche qui, altro trend che verrà fuori nel, che sta già venendo fuori perché in Italia è in beta, ovvero YouTube Shorts. È meglio fare video lunghi o video corti? In verità, dai dati, come leggete, non è detto che un video lungo o corto smuovino tanto. Il 46% delle persone a livello mondiale ancora preferisce guardare video che siano anche sopra i 20 minuti. Quindi questo qua è un fattore di ranking molto interessante. Scusate, è un fattore comunque anche di quanto deve essere lungo il mio video, quanto deve essere corto. Dall'altro punto, dall'altra parte di, diciamo, con l'avvento di TikTok e i Reels di Instagram, anche YouTube si sta buttando nel mondo dei video verticali corti con YouTube Shorts. YouTube Shorts è stato lanciato per la prima volta nel settembre del 2020 in India e è arrivato adesso più o meno a gennaio in beta qui in Italia. Dovete pensare a YouTube Shorts proprio come i video di TikTok e i Reels di Instagram, uguale. Quindi sono dei video verticali che promuovono quindi tutto il comparto dei video, dei content creator, diciamo, giovanissimi. Perché come avete visto, l'età principale tra i 25 e i 54. Quindi adesso YouTube non solo sta affrontando tutto l'ondata di streaming che viene rubato dal mondo Twitch, eccetera, ma sta cercando anche di tamponare quindi anche il mondo dei YouTube, diciamo, il mondo di questi video verticali. Quindi, da questo punto di vista, YouTube Shorts è da tenere sott'occhio perché potrà essere una delle armi, una dei canali, una delle, diciamo, sì, delle armi che ci mette a disposizione la piattaforma. Altro trend che verrà fuori è le YouTube Ads. Come stiamo vedendo, abbiamo le Spotify Ads, abbiamo anche le YouTube Ads, che sono delle Ads solo audio, che sono poste, diciamo, che dividono una canzone da un'altra. Sono come i video, le video ads di YouTube solo che è principalmente all'interno del canale YouTube Music e vengono utilizzate proprio come delle pubblicità di Spotify, uguale. quindi, quali saranno i trend? Sicuramente che YouTube è un canale che crescerà ancora di più e sarà sempre di più un fattore importante e avrà soprattutto una parte a livello di brand awareness e di vendite molto importante anche nel tempo. Sicuramente YouTube cambierà il suo modo di fruizione dei video e lo stiamo vedendo con YouTube Shorts, quindi prepariamoci comunque a creare dei video a livello verticale e magari dei video anche corti e prepariamoci anche a utilizzare delle nuove tipo di ads come nuovo canale. Quindi, non più solo le nostre ads video, ma anche delle ads a livello audio per andare a intercettare tutti quelli utenti che utilizzano YouTube Music per ascoltare musica. e ritorno da noi, anche così, qui andiamo molto veloci, sono le ultime domande così poi chiudiamo. Metriche fondamentali di YouTube. La metrica fondamentale di YouTube, come vi ho detto, è il coinvolgimento. Diciamo che sono tre quelle che io guarderei di più. Il coinvolgimento, il numero di visualizzazioni e il numero di commenti. Questi tre sono i tre principali metriche che io guardo sempre. In primis il coinvolgimento, perché più il mio video coinvolge le persone, più avrà un ranking maggiore. Quindi, come faccio a vedere, come vi ho fatto vedere, prima andiamo su YouTube Studio e andiamo nella sezione dedicata proprio per il coinvolgimento. Tool consigliati. Quelli che vi ho detto, quindi VidaIQ e TubeBuddy sono i migliori sul mercato ad oggi e vi possono aiutare a far crescere i vostri video. Bene. Quanto ci vuole ad arrivare a mille iscritti? Dipende. Dipende molto perché dipende molto dai tuoi video quanto coinvolgono. Dipende tu che la tua strategia di espansione, diciamo, di questi video. Quindi su che canali li fai girare, se hai altri canali su cui poter condividere questi video. Quindi, quanto ci vuole ad arrivare a mille iscritti potrebbe essere poco, se già i tuoi video coinvolgono tante persone e hai già tanto seguito. Oppure ci vuole anche un anno, due anni. Dipende veramente molto dalla strategia, ma soprattutto i contenuti che porto. Quindi non c'è una domanda specifica nel dire, ok, arrivi a YouTube a mille iscritti dopo un mese, due mesi. Non è detto. Quanti video devo avere nel canale prima che la SEO abbia senso? In verità anche già dal primo video potrebbe aver senso. Nel senso che non è che ho un numero per cui mi dicono, ok, superato cinque video, la tua SEO ha senso. Inizio a considerare, sì. Se faccio il video migliore del mondo e con una SEO ottima e con un coinvolgimento molto alto, posso avere anche due video sul canale YouTube e avere successo. Sì. Soprattutto per i video virali, ok? Quindi non abbiate paura del, oh ma magari devo fare dieci video prima di rencare. No. Chiaro. No, no, no. Sono due cose scollegate. Ci sono fenomeni su YouTube, YouTuber, ma anche personaggi a livello di marketing, che hanno rencato anche già dal secondo video che hanno fatto. Quindi senza avere tanti video sul canale YouTube. Lunghezza ideale di un titolo? Come ho detto, meno di 60 caratteri sarebbe ottimo, perché sopra i 60 caratteri abbiamo, diciamo, la censura di YouTube. Quindi taglia e non lo fa vedere. Quindi ricordatevi sempre, meglio un video sotto i 60 caratteri. Come crescere da zero su YouTube? Questa mi ha fatto un po' ridere come domanda, però è una domanda lecita. Come crescere da zero su YouTube? Ci vuole tanta pazienza e soprattutto creare dei contenuti che siano veramente interattivi, che coinvolgano veramente le persone. Ok? E questo, Davide, forse vale, o meglio, sicuramente per qualsiasi strategia organica, no? Che sia su YouTube o su qualsiasi altro canale che scegliamo di utilizzare. È un processo più lento. Sappiamo che è un po' più lento, per cui la parola pazienza sicuramente racchiude molto bene questo concetto. Sì, assolutamente sì. Però, insomma, appunto con la costanza poi si riesce ad arrivare al risultato che ci si pone. Sì. Quello che vi consiglio io è sicuramente già da subito fare dei video che siano in alta definizione e comunque che trattino temi che nella vostra nicchia le persone ricercano e alla quale sono sicuramente interessate. State attenti quindi al coinvolgimento e a tutti i dati che vi dà il pannello YouTube. Altra cosa, le collaborazioni. Se siete piccoli e conoscete YouTube più grandi con cui poter fare delle collaborazioni, perché parlate dello stesso argomento, fatele. Sì. Anzi, è un fattore molto importante questo. Coinvolgersi tra creator. E vi aiutate anche a far passare i vostri iscritti. Quindi, prima di tutto, video in alta definizione e che comunque coinvolgano già a livello di temi e di keyword comunque per i nostri utenti e l'argomento di cui state parlando. E successivamente fate collaborazioni. Ok? Trovate le collaborazioni migliori da portare avanti. Un'ultima cosa che vi volevo far vedere, tra l'altro per chiudere, giuro, poi chiudiamo totalmente e ci salutiamo. Qual è? Tutto ciò che vi ho spiegato in questa live, sia come crescere a livello di YouTube, sia come crescere, come ottimizzare la propria SEO, lo potete trovare a questo link qui. Qua potete veramente studiare tutto quello che volete. Abbiamo una guida rapida per iniziare su YouTube. Abbiamo tutta la parte per farsi conoscere, eccetera. YouTube mette a disposizione questa YouTube Creator Academy che ha già all'interno tutto ciò che vi può aiutare a crescere su YouTube. Quindi prendete questa live, riguardatevela. Vi condivideremo appena possibile anche una checklist per quanto riguarda la SEO su YouTube, ma iniziate anche a cercare la YouTube Creator Academy e guardare questi video, perché qui vi insegna proprio le basi e tutto ciò che potete sapere sul mondo YouTube. Come ogni cosa, Google vuole far sentire a proprio agio, vuole far crescere i propri canali e lo fa dandovi delle risorse veramente gratuite. Quindi sfruttatele e guardate tutti i video che volete. Detto questo, penso sia tutto, nel senso che ormai abbiamo fatto tutto questo deep learning proprio all'interno del mondo di YouTube organico. E niente, spero che la live vi sia piaciuta. Ah, vedo già dei commenti di apprezzamento, grazie a voi. È anche tardi, quindi ci siamo dilungati abbastanza, abbastanza. Quindi io vi saluto. Vi lasceremo quindi le risorse, insomma. Sì, assolutamente sì. Bene. Prima di rilacciarvi, vi ricordo che abbiamo... Bravo. Il nostro canale Telegram. Se non siete iscritti, iscrivetevi perché lì diamo tutti gli annunci delle live e condividiamo tutti i contenuti che facciamo e vi facciamo vedere durante il live. Quindi la checklist sarà proprio anche... Verrà data proprio con Telegram. Quindi se non siete iscritti, iscrivetevi. E ricordatevi sempre che questi video li potrete ritrovare sul nostro canale YouTube. Sì. Dopo un paio di giorni, tre giorni, però dipende. Prima o poi riusciamo e li caricheremo tutte. Quindi iscrivetevi, accendete la campanella, che così quando carichiamo un video... Questo è proprio da YouTuber. Esatto. Scusate, per un'emozione professionale. Vi arriva la notifica. Vi arriva così quando carichiamo un video, vi arriva la notifica e potrete riguardarveli tutti con calma. Naturalmente ci saranno anche i timestamp, quindi andate subito alla parte che vi interessa. Esatto, che vi interessa di più. Bene, bene. Davide, grazie. È stato davvero utilissimo. E tanto utile perché è molto pratico, no? Quindi molto di impatto senza girarci troppo intorno. Credo che tu sia stato in grado di toccare i temi probabilmente più interessanti un po' per chi ha il desiderio di avvicinarsi o comunque insomma anche solo per avere una panoramica generale di YouTube e come utilizzarlo e come ottimizzare i video all'interno di una strategia. Quindi ti ringraziamo e salutiamo tutti e a presto. Grazie di averci seguito fino a qui. Ciao, ciao. Ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti, grazie.